Sul distretto sanitario di Montesilvano, sui ritardi in particolare, il Movimento 5 Stelle accusa la regione Abruzzo. In che termini? Come per Cepagatti, anche qui a Montesilvano c'è un distretto nuovo di Zecca, possiamo dire, progettato, addirittura il progetto risale nel lontano 1995, che a oggi non è ancora attivo. L'utenza si serve ancora del vecchio distretto che si trova su Corso Umberto, un vecchio distretto fatiscente che fa acqua a tutte le parti, che ha subito anche un'ispezione da parte del nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, che ha rilevato tutta una serie di enormi criticità. L'Als di Pescara, quindi la regione Abruzzo, paga oltre 110 mila euro annui di affitto per mantenere in piedi il vecchio distretto. Quindi noi abbiamo interpellato il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, che è appunto da cui dipende l'azienda sanitaria di Pescara, per conoscere quali sono le intenzioni e le volontà della regione Abruzzo. Perché non si è attivato ancora il nuovo distretto, sembrerebbe che ci siano problemi anche legati alla sicurezza e alle norme sulla sicurezza, sembrerebbe che non è stata ancora installata una scala di incendio, che addirittura non ci sono sistemi di climatizzazione all'interno del nuovo distretto, in osservanza della legge 32, una legge regionale. Quindi vorremmo capire quali sono i motivi e soprattutto perché questo esige il Movimento 5 Stelle, se ci sono responsabilità da parte di funzionari, di dirigenti che non hanno attivato nei tempi questo distretto e ci sono anche responsabilità erariali, vogliamo conoscere e sapere chi ha sbagliato, perché chi ha sbagliato deve pagare.